11. Filtrata Quando noi pensiamo ai nostri cari trapassati, le entità preposte che cosa fanno? Commento La guida fisica, chiamata così presso alcuni cenacoli, sforonda i nostri pensieri degli elementi negativi, quali il nostro dolore, il nostro rimpianto e tutti quei sentimenti che possono colpire negativamente chi è trapassato da poco e vive ancora uno stato d'animo perturbato. Questo fa sì che l'entità in questione riceva la natura migliore dei nostri pensieri, mentre la natura che può essere dannosa per l'entità è filtrata dalla guida fisica. Grazie